Siamo qui davanti al palazzaccio 18 validi cittadini hanno presentato, 17 anzi Voi da dove venite? Torino, Collegno Collegno, Torino Ecco adesso vediamo un po' tutti quanti da dove vengono Roma, vicinissimo Scusate da dove venite? Vicenza Piove di Sacco Provincia? Padua Trieste Da dove vieni? Trieste Da dove vieni? Trento Trento e Trieste Da dove vieni? Trieste Sesto San Giovanni Sesto San Giovanni Ci siamo persi alcuno Oddio Scusate Scusate voi Da dove venite? Da Padova Padova Scusate da dove venite voi? Voi da dove venite? Da Trento Trento Non si ricorda più Dall'Italia Il freddo Pensavo ai miei trascorsi Da dove vieni? Al Pignase Io vengo dal 68 No Scusate da dove vieni? Da Rovretto Che siete venuti a fare? Vogliamo togliere il quorum Quale quorum? Vogliamo avere democrazia diretta Un pesante quorum del 50% Quorum dai referendum nazionali Ci sono solo in Italia In Svizzera no Nei Stati Uniti no E quindi questo è l'inizio di che cosa? Una raccolta di firme? È l'inizio della iniziativa Quorum Zero più democrazia È l'inizio della democrazia diretta? Vogliamo migliorare gli strumenti di democrazia diretta esistenti e introdurre dei migliori che ci sono già nel resto del mondo Ah, e quindi che avete fatto adesso oggi? Oggi abbiamo depositato l'iniziativa di legge Siamo in 17 depositari ufficiali Il comitato in realtà è formato da una trentina di persone e da oggi, anzi dai prossimi giorni potremo cominciare a raccogliere le firme su questa iniziativa di oggi Ah, 17 avete sfidato la cabala insomma Avete sfidato la neve, la cabala, le ferrovie del Stato Di lupi, i lupi lungo la ferrovia Lupi lungo la ferrovia, poi l'anello Per avere informazioni? Il sito quorum0-democrazia.it Ripeto, sillabando, come dice la nostra amica Anna Maria Macripo di Vicente www.quorum0-democrazia.it Ma siete di qualche partito? Di nessun partito e di tutti i partiti Noi siamo cittadini che vogliamo togliere il quorum dai referendum nazionali come nei paesi civili Cioè per dare più sovranità al cittadino praticamente? Sì, per permettere che i cittadini che vanno a votare abbiano peso e abbiano voce nelle scelte pubbliche Grazie Prego, grazie a lei Bene, prossima tappa Montecitorio Prossima tappa Montecitorio